Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. La settima perturbazione di settembre sta per interessare l'Italia con piogge e temporali sparsi, soprattutto al centro nord, tra la giornata di oggi e quella di domani. Clima autunnale a causa del calo delle temperature che si porteranno sotto le medie del periodo. Vediamo ora in dettaglio con l'ausilio della grafica accanto le previsioni meteo per domani, martedì 19 settembre. Al mattino, piogge e acquazioni sparsi al nord-est, sulle regioni del centro e tra Campania e Molise, fenomeni localmente intensi tra Basso Lazio e Campania. Tempo più asciutto altrove, con nubi sparse al nord-ovest e ampi spazi di sereno al sud e sulle isole maggiori. Neve sulle Alpi orientali e oltre i 1700 metri. Ancora tempo instabile al pomeriggio sul Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e regioni adriatiche, alle Marche e alla Puglia settembre. Locali piogge anche su Liguria orientale e nelle zone interne di Campania e Basilicata. Più asciutto altrove. In serata insistono le piogge su Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, regioni del centro, ma anche Molise, Campania e Calabria di Renica. Variabilità asciutta altrove. Nella notte il maltempo si sposta lungo le regioni adriatiche, con neve che farà la sua comparsa anche sulle scime dell'Appennino centro-settenzionale. Tempo più asciutto altrove, salvo locali piogge su Campania e Calabria. Le temperature risulteranno in calo nei valori minimi al nord e lievemente al centro-sud. Massime, stazionarie o in calo ovunque. Seguite dunque tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito oppure con la nostra App Graduita Meteo per avere tutte le previsioni dettagliate per le vostre località. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.